Bene, questa volta il record mondiale utilizzando i Durex Ben, 7 Mentos, 2, 6, 7 Record mondiale, 8 Mentos, tutte quante inserite in questo moto Più delicata, andiamo a far cadere le Mentos Tutte quante all'interno della bottiglia inizia lentamente la reazione, via con la reazione Ecco la Coca-Cola che comincia a reagire, ecco la Coca-Cola che reagisce Incredibile, guardiamo una cosa utica al mondo, utica al mondo Ancora continua la reazione della Coca-Cola, pazzesco, è pazzesco Record del mondo, ancora reagisci Coca-Cola, ancora, ancora, sì, sì Noi!